Ok, allora questo tema d'esame leggiamolo velocemente, che appunto è stato suggerito da qualcuno di voi, di pedaggi autostradali, ci chiede di scrivere un programma per elaborare delle statistiche sui pedaggi autostradali pagati dagli automobilisti lungo l'autostrada Torino-Milano, come è fatto le informazioni che abbiamo a disposizione? Dice che abbiamo un file che si chiama pedaggi.txt che elenca le varie tratte autostradali, una per riga, più avanti vediamo che c'è un esempio di questo file dove ci sono i vari caselli, entrate e uscite dell'autostrada che parte da Torino e arriva fino a Milano. Il testo ci dice, torno indietro al testo, che casello 1 e casello 2 sono due stringhe che indicano l'inizio e la fine della tratta autostradale, identificandola univocamente. Il pedaggio è un numero reale che rappresenta il costo del pedaggio per quella tratta. Le tratte autostradali, questo è importante, sono riportate in ordine consecutivo lungo la direzione che va da Torino-Milano, però l'autostrada si può anche percorrere al contrario, cioè da Milano verso Torino. Quindi, in certo senso, il file è così che da Rondissone a Borgodale c'è una tratta di autostrada che costa 2,10 euro, ma anche da Borgodale a Rondissone posso, diciamo così, viaggiare in senso inverso e costerà sempre 2,10 euro. Questa informazione non è esplicita ma è sottintesa dentro i dati che ho a disposizione. Questo ci complicherà un pochino il lavoro. Questi sono dati fissi. Dopodiché abbiamo un file auto.txt che riporta una lista di automobili che sono transitati allungo l'autostrada, ciascuna è identificata da un suo numero di targa. Per ciascun'automobile, per ciascun transito, non per ciascun'automobile, c'è una riga in questo formato, targa, casello 1, casello 2, giorno. Giù c'è un esempio, questa potrebbe essere una targa, entrata al casello di Torino e uscita al casello di Milano il giorno 7 settembre 2024. La stessa targa può comparire più volte nel file, significa che l'automobile è entrata più volte in autostrada, magari in date differenti o anche in date uguali, insomma. Ad esempio questa automobile qua ha fatto una tratta e poi la stessa automobile ha fatto un'altra tratta più avanti in un giorno diverso in questo caso. Idem quest'altra. Poi qui succede in questo file che ci sono questi due passaggi consecutivi, ma in realtà se guardate questa targa ha avuto un passaggio qui e un altro dopo. Quindi non è detto che i passaggi della stessa auto debbano essere consecutivi nel file. infatti il testo precisa anche, scritto sotto, l'ordine con cui sono elencate le targhe è indifferente, cioè non possiamo farci nessuna ipotesi. Cosa dobbiamo fare alla fine di tutto questo? Per ogni targa il programma deve visualizzare in output il pedaggio totale pagato, quindi quest'auto qui quanto ha pagato in totale per il suo unico passaggio che ha fatto. Quest'auto qui quanto ha pagato in totale sulla somma dei due passaggi che ha fatto, perché abbiamo visto che è passata due volte. E così via, un output, una riga per ciascuna auto. Questa targa, questo pedaggio, quest'altra targa, quest'altro pedaggio che è la somma di due passaggi. Infatti altre informazioni che devo dare è il numero totale di tratti autostradali percorsi e il numero totale di ingressi distinti, cioè quante volte questa targa è comparsa. Ad esempio la prima sappiamo che è comparsa una volta e quindi è percorso 5 tratte, la seconda è comparsa due volte e complessivamente è percorso 20 tratte, cioè la somma delle tratte percorsi nella prima e nella seconda volta. Cosa rimane? Infine il programma deve visualizzare in output la targa dell'automobile che ha pagato il pedaggio più alto. Quindi dopo che abbiamo colcato tutta sta roba qua andiamo a vedere quale ha il pedaggio più alto che in questo caso è questa seconda che abbiamo stampato. Ok? Questo è il compitino che dobbiamo portare a termine. Concentriamoci sull'output. Noi abbiamo un programma che deve calcolare e produrre queste cose. Abbiamo capito quali sono i dati che abbiamo a disposizione, dovremmo decidere questi dati che abbiamo a disposizione come rappresentarli, come codificarli. Per capire qual è il modo più furbo per codificarli o per rappresentarli, memoria, come struttura di dati, mi conviene partire dall'uso che ne devo fare, cioè che tipo di calcolo devo farne. È ovvio che io posso sempre leggere, questo è un file molto semplice con dati record separati dai punti virgola, uno per riga e l'altro anche. Quindi se vogliamo mi costa niente, mi costa tre righe di codice leggere una lista di liste di stringhe. Faccio delle read e delle split. Io ho questi valori come liste e idem sotto. Ma mi chiedo, è il modo più comodo con cui poi posso fare i calcoli? Magari sì, magari no. Cerchiamo di ragionare sui calcoli che devo fare. Allora, la cosa più, qui ci sono due mini difficoltà che io ci vedo. Uno è il fatto che io, questo file auto.txt, le singole righe non sono indipendenti l'una dall'altra. Cioè non è che poi elaboro la prima riga, poi la seconda, poi la terza e me non dimentico, ma perché magari quando elaboro la seconda riga, diciamo, ho una targa di un'auto che ricompare anche più avanti e i valori di queste due vanno sommati. Quindi in qualche modo l'elaborazione che devo fare non è basata sulle righe del file, sul numero di dati che ho, ma sul numero di targhe distinte che ho. Quindi devo capire quali sono le auto diverse, le targhe diverse, non tanto il numero di passaggi. Perché una certa auto deve fare più passaggi, può fare più passaggi. E lo vedo anche nell'output. Io ho un output per ogni targa diversa, non per ogni passaggio che c'era nel file. Questo è il primo punto. Targhe uniche, targhe univo che mi viene già in mente usare la targa come una chiave in un dizionario probabilmente, oppure mettere un inset, oppure far controllare che non ci siano targhe duplicate quando le leggo. Qualche meccanismo di questo genere. E poi la seconda difficoltà, che in realtà è più complicata, più macchinosa, è quando io ho due, che sono Ro e Santià, chiaramente sono due entrate e uscite. Io devo capire, visto che Santià è qua e Ro è qua, anzi in realtà è anche qua, e Santià compare anche qua. Che cosa ha fatto quest'auto? Allora, se l'informazione è che entrata a Ro e uscita a Santià, vuol dire che ha percorso l'autostrada da Milano verso Torino, il casello di entrata era Ro, che qui è indicato come casello di uscita, ma perché vediamo l'autostrada nel verso inverso. E il casello di uscita era Santià qua. Quindi in realtà lui ha percorso queste tratte. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto tratte con la somma di questi. Quindi dobbiamo fare un lavoro di attenzione, non è difficile dobbiamo fare attenzione, quando io ho le due fermate devo capire innanzitutto se sto andando o tornando e poi una volta che ho identificato se sto andando o tornando, quali sono tutte le tratte comprese tra quella di ingresso e quella di uscita. Prendiamone un'altra. Quindi in questo caso se tornando indietro lui deve sommare tutte le tratte che hanno come casello tra virgolette di uscita in questi dati quello in cui sono effettivamente entrato, a ritroso fino al casello di entrata quello in cui sono effettivamente uscito. Viceversa se prendo una tratta più facile, quella che va avanti, ad esempio la Biandrata a Greggio se non sbaglio, no questa va indietro, la Biandrata a Greggio va indietro di una fermata, quindi ho il caso particolare in cui lui entra ed esce al casello successivo. Oppure posso avere, ah vanno tutte indietro queste, no c'è un Torino-Santià che va da Torino a Santià come uscita dove è andata qua. In questo caso sto andando verso Milano, ho la stazione, il caso di ingresso che è l'ingresso della tratta in cui sono effettivamente entrato e il caso di uscita che è l'uscita della tratta in cui sono effettivamente entrato. Ok? Quindi questa è la parte un pochino più complicata. Questa io già mi immagino di scrivere una funzione che faccia questo lavoro sporco perché sarà un po' di controlli di if, sto andando avanti, sto andando indietro. Questa funzione alla fine di che cosa ha bisogno? Ha bisogno di questa tabella qua, come dati, come informazioni statiche e ha bisogno dei due caselli di entrata e di uscita. E cosa mi deve tirare fuori? Mi deve tirare fuori il numero di tratte e il pedaggio totale. Questa è la parte più rognosa, me la metto da parte, ok? La isolo e poi ci ragioniamo parte. Il resto tutto sommato. Ok, questo è un po' il ragionamento preliminare che faccio leggendo il testo, analizzando il testo. Adesso comincio magari a progettare il mio programma, cominciando un po' a pensare quali possono essere le strutture dati più comode per fare questa cosa qua. Affrontando separatamente i due problemi. Ad esempio il primo problema che ho citato, non in ordine di difficoltà ma in ordine in cui l'ho citato, era quello del fatto che un'auto poteva fare più passaggi. Ok? Allora, io posso avere il file dei passaggi semplicemente appunto come lista di liste. Io posso avere una lista in cui il primo elemento è la prima targa, FI eccetera eccetera, 456, quei numeri lì, virgola casello d'ingresso che è Torino, virgola casello d'uscita che è Milano, non scrivo tutte le lettere per fare prima ma per capirci. E poi c'è una data che era il 7-9-2024, qualcosa del genere. Poi c'è il secondo passaggio, lo posso rappresentare nello stesso modo come un'altra lista, il terzo passaggio come un'altra lista ancora e così via. Questo è il modo più semplice di leggere il file. Dimmi. Eh, ci sto arrivando. La data non mi serve a niente. Mi accorgo già subito, come dice lui, che in tutto l'esercizio la data non mi serve. Benissimo. Dimentichiamola. Nella lettura del file non la leggo neanche. Cioè non la salvo da nessuna parte. Per quello che mi piace ragionare partendo dal fondo, da che cosa voglio ottenere. Perché se io partissi dicendo leggo il file, leggo tutto. Invece qua mi accorgo che no, questo dato non mi serve. quindi diciamo, facciamo finta che la data non ci sia, perché tanto non ci serve a nulla. Non cambia il risultato sapere o non sapere la data, in questo esercizio qua. Questo era un modo di rappresentare i dati. Un altro modo di rappresentare i dati è quello di avere una lista di dizionari. Quindi buttiamo via la data, potrei dire io ho il primo dato che c'è un dizionario con campo targa, due punti, fi456, poi ho il campo ingresso col valore Torino, chiuse virgolette, poi il campo uscita con valore Milano, virgola. La seconda riga sarà la stessa cosa, la terza riga sarà la stessa cosa. È un'altra alternativa che mi viene semplice anche leggendo il file. Vanno benissimo entrambe, benissimo. Ciascuno può scegliere. Qual è l'unica scomodità di questa rappresentazione? La scomodità è che ho chiaramente una riga per ogni passaggio e quindi quando più avanti avrò magari la stessa auto, fi456, mi capiterà di avere la stessa targa in più righe diverse, che siano rappresentati come liste, che siano rappresentati come dizionari, poco cambia. E allora quando devo fare le somme, le varie tratte, devo andare a fare la somma di una cosa che c'è nella prima riga più una che c'è chissà più avanti nelle righe successive. Quindi qua mi complica un pochino il lavoro, ma non è la fine del mondo. Sicuramente nel caso in cui avessi una rappresentazione di questo genere mi serve, mi fa comodo, avere da qualche parte, salvarmi da qualche parte le targhe. Tipicamente le metto come un insieme, così non ho duplicati, fi456 e poi avrò la targa BY come era 0,1,2 ecc. In modo che quando poi devo iterare su queste strutture dati, non vado a iterare sulle singole righe, ma vado a iterare sulle targhe e poi data una targa vado a cercare quali sono le righe che corrispondono a quella targa lì. E per costruire questo insieme, chiaramente, semplicemente mi vado a leggere questi elementi e faccio un add di tutte le targhe che trovo, finiranno lì dentro. Mi va bene come insieme perché non c'è nessun requisito nel testo sull'ordine con cui devo stampare i risultati. Quindi insieme mi dà i dati nell'ordine che vuole. Pensando di voler generare l'output qua, prendendo una targa per volta, c'è un elemento per volta dell'insieme, se queste targhe sono emozionate in un insieme, basta iterare su quell'insieme lì, sapendo che l'insieme mi dà i dati in ordine casuale. Ma non c'è scritto che devo dare un ordine particolare, non c'è scritto che devo dare esattamente quest'ordine qua. E quindi mi va bene. Se ci fosse scritto, dammi l'output in un ordine di apparizione delle targhe, cioè la prima che ho trovato, le ho mostrato per prima, allora non sarebbe furbo mettere un insieme, dovrei mettere magari una lista di targhe, facendo poi attenzione quando le aggiungo di non aggiungere duplicati. Questi piccoli dettagli che poi ci fanno scegliere una struttura di dati piuttosto che un'altra, a seconda della cosa mi serve. Ecco, un'altra possibilità, e poi ne scegliamo una, per rappresentare i dati è mettere insieme queste due cose, mettere insieme la struttura tabuellare con l'insieme delle targhe, diciamo così il set, usando tipicamente un dizionario. Un dizionario la cui chiave sia la targa, quindi fi456 avevamo scritto, e il cui valore siano i passaggi di quell'auto lì. I passaggi plurale, perché potrebbe essere più di uno, e quindi sarà una lista di passaggi. Questi passaggi possono essere presentati, di nuovo, o come lista ingresso e uscita, e basta, perché che campi ci devo mettere, caso di ingresso e caso di uscita, oppure come dizionario. Potrebbe essere una lista, appunto, di Torino, virgola Milano. E questa ha un passaggio solo. Poi invece ho una seconda auto che è BY123, che ha due passaggi, quindi avrò un primo passaggio che è, che ne so, da Roa a Novara, sto inventando, non sono i dati del file, per non passare avanti e indietro, e un secondo passaggio che è, invece, magenta di vasso. E così via. Quindi in questo caso avrai un dizionario indicizzato per targa, e quindi già in automatico le targhe sono uniche, univoche, e poi, visto che la stessa targa può comparire più volte, quando trovo dei nuovi passaggi con la stessa targa, li andrò ad aggiungere nella stessa riga, nello stesso valore. I passaggi a questo punto sono dimagriti rispetto a prima, no? Perché prima avevamo la targa, che a questo punto non mi serve più rappresentare perché è già la chiave. La data che abbiamo già assegato prima, e quindi mi basta semplicemente avere l'ingresso e l'uscita. Oh, l'ingresso e l'uscita lo possiamo fare come lista, lo possiamo fare come tupla, Torino, Milano, lo possiamo fare come, ah, cosa faccio? Lo possiamo fare come dizionario, quindi in, to, out, mi, come prima. Come rappresento questo blocco qua, ma alla fine ho due valori, entrambi a string, beh, sono assolutamente uguali, no? Assolutamente indifferenti. Se io dovessi descrivere questa struttura dati, che mi sembra quella più adatta per fare i calcoli, direi che è un dizionario, la cui chiave è una stringa, cioè la targa, il cui valore è una lista di passaggi, ciascuno dei quali è una tupla di due stringhe. Dico tupla perché magari penso come immutabile, non ci devo fare dei lavori, tupla o lista come volete. Quindi un dizionario come chiave stringa, come valore lista di liste o lista di tuple o lista di dizionario. Allora, sta a me, o uso una struttura dati più semplice, mi semplifico la fase di lettura del file e poi devo remare un pochino di più sull'algoritmo, perché devo andarmi poi a cercare dove sono i passaggi duplicati eccetera eccetera, della stessa auto, oppure fatico un pochino di più in fase di lettura del file e poi vado molto più liscio sull'algoritmo. Perché a quel punto, sai, quanti sono i passaggi che deve fare un'auto? eh, basta contare, due elementi sono due. Qual è il numero di tratte del pedaggio? Vabbè, dovrò fare il calcolo delle tratte del pedaggio di questa, abbiamo detto che chiamiamo una funzione per quello, più tratte del pedaggio dell'altra. Ma le ho lì vicine, no? Quando itero quella lista, faccio tutto, ho il totale e lo stampo. Ok? Allora, proviamo così. Poi non ci siamo ancora posti il problema di come calcolare questi valori. Sappiamo che dovremmo fare una funzione, ma poi ci pensiamo. Allora, io proverei a cominciare, tanto per fissare i ragionamenti che abbiamo fatto, a mettere giù un po' di codice. Allora, non qua, ma sull'altro quello di settimane. Ok. Quindi io qua, settimana 13, ho copiato il testo dei pedaggi autostradali e creiamo un file che chiamiamo soluzione. Voi all'esame non dovete creare un altro file, dovete scrivere il programma direttamente dentro main.py. Ok? Io creo un file separato perché così il main rimane esattamente quello del testo e poi si aggiunge in più la soluzione che facciamo insieme. Però all'esame non create un file soluzione, scrivete direttamente dentro il main il vostro programma. Che tanto alla fine è vuoto. Ci sono dei commenti e delle stampe di prova dei file. Così potete provare, quando aprite il main, fate un run, vedete che tutto funziona, vi stampa video i file, vuol dire che tutto funziona. Sta a voi, poi cancellate queste righe qua e cominciate a scrivere il vostro programma. Ok. Allora, dicevamo, vogliamo costruire quindi la l'insieme dei passaggi delle auto con questa struttura dati qua e invece l'insieme delle tratte autostradali non l'abbiamo ancora deciso, non ci abbiamo ancora pensato. Ok? Vabbè, da qualche parte bisogna cominciare. Quindi io comincerei da qualche cosa che è leggi passaggi. Per mia abitudine creo delle funzioni. E poi immagino di farmi una seconda funzione che sarà una legge tratte, sempre di un certo nome file, una funzione main e poi la chiamata alla funzione main e infine abbiamo già capito che ci servirà per comodità nostra una funzione che calcola pedaggio, che riceve che cosa è l'ingresso? Riceve la stazione di ingresso, la stazione di uscita e l'insieme delle tratte. Questo ad alto livello del mio programma. il main lo possiamo quasi scrivere. Abbiamo detto che passaggi lo leggiamo dal file che che si chiama, com'è che lo chiamava il testo, auto.txt e questo costruirà quel dizionario di liste che abbiamo visto prima. Poi per ciascuna di queste targhe, por targa in passaggi, mi chiedo qual'è il pedaggio? Pedaggio da A, dal punto di partenza al punto di arrivo, allora il percorso sarà che cosa? Passaggi di targa. cosa stiamo facendo qua? Cos'è questo passaggi? Passaggi, abbiamo detto che il dizionario che ha come chiave la targa e come valore una lista di liste di partenza arrivo. questo è un esempio di cosa potrebbe esserci. ok? Scritto come commento anziché come disegno, mettiamolo a capo così si riesce a vedere. ogni targa itero su questo ciclo for, quindi questa targa la prima volta sarà IF245 ok? allora, data la targa io posso estrarre la lista di suoi passaggi diciamo diciamo chiamiamolo elenco tratte ok? che cos'è questo elenco tratte? sarà questa lista qui queste tratte le devo prendere una per una for tratta in elenco tratte e quindi la singola tratta sarà qualcosa come Torino Milano e di questa tratta calcolo il pedaggio pedaggio uguale calcola pedaggio di che cosa? tratta di 0 parti da casello di entrata tratta di 1 casello di uscita e poi abbiamo detto che c'è la terza terzo parametro che è quello delle tratte che non avrebbe che non abbiamo ancora calcolato vabbè, perché siamo dimenticati di leggere il file leggiamolo sopra tratte uguale leggi tratte il nome del file si chiamava pedaggi.txt questo non è pseudo codice è codice vero è già il main che presume che abbiamo già letto i file e l'abbiamo già letto in modo che ci fa comodo ci fa comodo perché in tre istruzioni riusciamo a fare praticamente tutto poi magari possiamo dire che il calcolo pedaggio non mi da solo il pedaggio ma anche il numero di tratte il numero di ho sbagliato i nomi perché lui il testo chiama tratta il singolo pezzettino e invece cioè questa è una tratta da un casello a quello successivo questa non è una tratta è un insieme di tratte diverse una sequenza di tratte diverse quindi meglio se uso nomi diversi per non confondermi ok? allora è giusto che questo siano le tratte sono le singole tratte ma quello dei percorsi non sono elenco tratte ma sono elenco diciamo di percorsi e quindi abbiamo un percorso in elenco percorsi ok? ogni percorso è fatto in un caso di entrata in un caso di uscita e quindi percorso di zero percorso di uno per uscita e questa funzione le facciamo calcolare il pedaggio e il numero di tratte intanto deve trovarle le tratte dimmi il numero di tratte è no, non è la lunghezza della lista il numero la lunghezza di questa lista è il numero di passaggi che fa questa auto ciascun passaggio è fatto di più tratte cioè quando entro a Torino e esco a Milano faccio un passaggio e questo passaggio è fatto di 12 tratte entro qui ed esco qui io da questi dati Torino-Milano come faccio a sapere quanti caselli passo? non lo so devo andare a vedere qui nei pedaggi c'è questa una due tre quattro cinque eccetera ok dobbiamo solo fare attenzione a qual è il dato che ci interessa questa lunghezza sarà sempre due ingresso e uscita questa lista è sempre di due elementi ingresso e uscita poi il numero di tratte che devo stampare che devo calcolare conta il numero di pezzettini che devo mettere insieme per entrare in quel casello e uscire in quell'altro casello che lo calcolerà la nostra funzione calcola pedaggio di cui poi non abbiamo ancora parlato tanto dopo di che cosa devo fare di questi valori qua devo sommare tra di loro chiaramente perché non devo stampare il pedaggio per ogni singolo passaggio che fa quell'auto ma la somma dei pedaggi vabbè allora vorrà dire che per quella targa lì data una certa targa faccio la somma di questi valori quindi avrò il pedaggio tot uguale 0 numero tratte tot uguale 0 e poi una volta che ho calcolato ho fatto calcolare la funzione questi farò che il pedaggio tot l'incremento della quantità pedaggio e numero tratte tot lo incremento della quantità numero tratte così alla fine del percorso posso stampare finalmente la targa il pedaggio totale e il numero di tratte totale è quello che devo stampare andiamo a vedere targa pedaggio numero di tratte ah il numero di ingressi si il numero di ingressi è la lunghezza di questa lista qua di quello che ho chiamato elenco percorsi io metto una print qui brutta poi i messaggini li mettiamo a posto dopo l'estetica la facciamo come ultima cosa gli ultimi cinque minuti e questo appunto a parte l'estetica della print finale dovrebbe essere il main no manca l'ultimo pezzo ancora qual è l'auto che ha fatto che ha speso di più vabbè se state di fare un max ci pensiamo dopo dai ricordiamoci alla fine dopo che fate tutta sta roba qua voglio stampare quello ok ancora da fare però visto che questo lo classifico relativamente facile finché ho la mente fresca adesso vado a buttarmi sulle cose un pochino più difficili fin qui se io avessi scelto una struttura di dati diversa come queste la logica non sarebbe stata troppo diversa ma anziché fare semplicemente for targa in passaggi avrei dovuto qui fare prendo le targhe e penso su una targa vado a cercarmi le righe in cui ci sono i passaggi e quindi dovrei fare un for in più con un if per dire questo passaggio è relativo alla targa che mi sta interessando in questo momento quindi cercate d'accordo di se vi viene da fare un ciclo in cui scandisco degli elementi e all'interno del ciclo ogni volta ne prendo solamente un sotto insieme sulla base di un valore di un campo la prima volta che faccio il ciclo prendo la prima targa la seconda volta rifaccio il nuovo ciclo prendo la seconda targa e così via magari è un suggerimento di dire ma se sta roba la mettessi in un dizionario mi evito due livelli di annidamento e due livelli di ragionamento in più ok? la logica sarebbe la stessa ma operativamente estrarre questi dati mentre qui nel dizionario che l'ho messi già in fila lì dovrei andarmene a pescare via via nelle righe in cui si trovano ok a questo punto se dimentichiamo ancora per ora il pedaggio proviamo a implementare questo leggi passaggio cioè questo dizionario di cui abbiamo parlato rendiamolo una realtà ma è abbastanza facile questa cosa qua io allora devo aprire questo file with open nome file in lettura encoding utf8 sf non mi metto neanche non vado neanche a scomodare il csv reader perché è talmente semplice questo file qua no non è questo l'altro scusatemi è talmente semplice questo file qua che me lo faccio a mano con le split è uguale, è come preferito io devo costruire che cosa? il dizionario di qui sopra quindi avevamo detto che il dizionario si chiamava passaggi creiamo un dizionario vuoto e ci mettiamo dentro gli elementi man mano che li troviamo quindi leggo una riga quindi for riga in f separo la riga nei suoi campi separandoli sul punto e virgola campi uguale riga punto r strip della parra n anche se in questo caso non ci serve perché tanto l'ultimo campo non lo guardiamo punto split sul punto e virgola e qui ho una lista di string campi e una lista di string ok? il primo campo è la targa questa targa può darsi che l'abbia già vista oppure che non l'abbia ancora vista se non l'ho ancora vista devo creare una nuova riga in dizionario un nuovo elemento in dizionario se l'ho già vista devo aggiungere questo percorso a ciò che già c'è ho la targa, adesso facciamo i passaggini con tutte le variabili intermedie la mia targa sarà campi di zero e il mio percorso che altro percorso è vero sotto? sì il mio percorso sarà data dalla partenza in campi di uno e l'arrivo in campi di due targa e campi di zero il percorso lo costruisco come una lista di due stringhe il primo elemento di questa lista è il secondo campo del file che è la stazione di partenza e così via quindi a questo punto io cosa faccio? se la targa c'è già facciamo prima se non c'è, più facile se non c'è ancora not in passaggi è la prima volta che vedo questa targa allora creo una nuova riga nel dizionario passaggi di targa uguale percorso attenzione lista che contiene un elemento che è il percorso quindi devo fare una lista di liste anche se ho un passaggio solo devo mettere una lista che contiene un elemento che è la lista dei due caselli quindi occhio a queste parentesi quadre che servono altrimenti altrimenti vuol dire che la targa c'è già quindi ho già una lista di un elemento che ho già creato prima devo aggiungere il percorso che trovo adesso e quindi passaggi di targa esiste già passaggi di targa è una lista che contiene almeno un passaggio il quale passaggio è una listarella di due elementi ci aggiungiamo il passaggio attuale fine percorso scusatemi vediamo se è vero proviamo a farlo partire in debug ho messo un breakpoint nel main e così vediamo cosa succede allora sono nel main sono qui entro nella funzione apri il file e vado a prendere varie righe dalla prima riga mi trova questo ok lo divido in campi e mi trovo a questi quattro campi già li conosciamo estraggo la targa eccola qua estraggo il percorso questo qua torino santià e poi mi vado a chiedere la targa è dentro passaggi 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 è ancora un dizionario vuoto quindi non c'è ovviamente e quindi creerò dentro il dizionario una nuova chiave targa come valore questo percorso adesso passaggi lo guardiamo come è fatto è un dizionario che ha una chiave se apro la chiave trovo il valore il valore è una lista di zero elementi scusate di un elemento l'elemento zero è a sua volta una lista di due elementi che sono le due stringhe dizionario chiave lista di percorsi singolo percorso cioè coppia di caselli vado avanti seconda targa sarà anche essa nuova e quindi aggiungerò una secondo qua adesso aggiungo una secondo elemento nel dizionario oltre a questa targa ci sarà anche questa BY010 anche lei con una sola con un solo percorso poi una terza targa di nuovo nuova adesso poi alla quarta riga del file dovrei trovare una targa che ho già visto allora in questa if della riga 8 vado sul ramo else e mi va a prendere passaggi di targa che c'è già perché la targa è x456 quindi passaggi di targa c'è già e passaggi di targa è una lista di un elemento ce ne aggiungo un altro elemento quest'altro percorso che sappiamo essere una coppia di stringhe quindi quando faccio questo append vado a vedere che nel dizionario ha questa chiave x456 questa volta ho due elementi entrambi coppie cioè listarele da due di stringhe ok? quindi questo fa sì che se io faccio finire il lavoro di questa funzione avrò questa passaggi questo dizionario con quattro chiavi che sono le quattro targa diverse e ciascuno avrà una certa serie di passaggi boh sono arrivato fin qui adesso devo fare l'altra parte no? quella di leggere le tratte e calcolare ci siamo? dimmi scusa? quest'ultima parte c'è ciò che abbiamo fatto finora? no che dobbiamo fare ancora la lettura eh sì dobbiamo fare la funzione calcolapedaggio adesso noi abbiamo questo che sono tutti i passaggi delle auto no? poi abbiamo il ciclo il programma principale che a un certo punto andrà a prendere una, la prima targa il primo percorso all'interno di questa targa e mi si chiede ok in questo percorso da Torino a Santià quanto costa e quante tratte contiene questo è ciò che dobbiamo ancora fare ok? e è alla fine il lavoro della funzione calcolapedaggio la funzione calcolapedaggio userà ovviamente l'informazione sulle tratte che non abbiamo ancora letto questa qui non abbiamo ancora letto dal file perché io ho aspettato leggere dal file per ragionare su come mi conviene leggerla in modo da facilitare la vita alla funzione all'algoritmo che ci starà dentro la funzione calcolapedaggio quindi adesso mettiamoci nei panni di calcolapedaggio che riceve Torino Milano il primo che prende qua è qual era? Torino-Santià quindi io sono alla funzione calcolapedaggio mi hanno detto senti ma da Torino-Santià quante traste ci sono e quanto costa? allora io devo trovare se è un viaggio di andata chiamiamo andata da Torino verso Milano una riga in cui il casello di ingresso sia Torino e il casello di uscita sia Sant'I una riga in cui il casello di ingresso sia Torino virgola e un'altra riga in cui il casello di uscita sia Sant'Ià che sono queste le tratte che mi interessano sono tutte quelle comprese tra punto d'ingresso e punto d'uscita quindi in questo caso mi dirà le tratte sono 5 e il pedaggio è 1,30 più 1 più 2 10 più 2 10 più 1,30 quindi se riesco a trovare una tratta in cui il casello di ingresso sia Torino una tratta in cui il casello di uscita sia Sant'Ià la prima sarà quella di indice 0 la seconda sarà quella di indice 4 e sono quelle che mi interessano quindi potrei pensare cerchiamo di trovare l'indice della tratta in cui il casello di ingresso sia quello dove sono entrato l'indice della tratta in cui il casello di ingresso sia quello dove sono uscito e mi servono quelle lì in mezzo ok? può andare nel momento stesso in cui ho detto la parola indice ho già scelto implicitamente che sta roba va dentro una lista ma ha senso che vada dentro una lista no? perché mi interessa l'ordine con cui occupano queste caselle proviamo in un altro vediamo se quest'idea funziona vi andrate greggio come vi andate greggio e questo qua vi andate greggio allora provo a applicare il criterio che ho detto prima cerco la riga in cui il casello di ingresso sia quello in cui sono entrato io vi andrate entro vi andrate questa è la riga cerco la riga in cui il casello di uscita sia greggio e mi da questa riga qua quindi che tra l'altro è una riga minore precedente dell'altra e mi darebbe queste tre righe ma non va bene, è sbagliato è sbagliato perché io non ho fatto quelle tre tratte lì io per fare da biandrate a greggio ho percorso in senso inverso la riga 8 quella tratta che è qua sulla riga 9 del file non ho fatto la riga 10 riga 9 riga 8 ma perché? ma perché sto percorrendo al contrario quindi devo invertire ingresso con uscita la mia ricerca che devo fare è allora ho trovato una riga che entra a biandrate e una riga che esce a greggio ma poiché questa riga che esce a greggio è prima di quella che entra a biandrate non va bene rifaccio la ricerca al contrario cerco la riga che entra all'uscita di greggio e che esce all'entrata di biandrate immaginatevi di prendere la prima e la seconda colonna e scambiare tra di loro dobbiamo fare una ricerca con le prime e seconda colonna scambiate perché stiamo percorrendo l'autostrada al contrario e allora a questo punto le troverò le troverò a questo punto nell'ordine crescente l'importante è che alla fine di questa ricerca io trovi queste due cose in ordine crescente o decrescente se mi aspetto che sia decrescente allora adesso proviamo a metterlo come codice vuol dire che io non mi sono trovato male a immaginarmi che questi dati fossero in una lista tutto sommato e poi ho l'algoritmo che dovrà gestire due casi completamente diversi l'andata e il ritorno e capisce che sono nell'andata o nel ritorno solo dopo aver fatto una prima ricerca faccio finta che sia l'andata vedo cosa esce fuori se esce fuori qualcosa che non quadra allora ritorno e faccio il contrario oppure potrei fare un passettino avanti di pre elaborazione e dire senti ma possiamo mettere farci una lista con tutti i caselli solo i caselli così li abbiamo in ordine e poi andiamo a cercare dove è il primo casello o dove il secondo casello quale viene prima dei due questo sarebbe una semplificazione però immaginiamo di non averci pensato questo vuol dire che la nostra funzione di lettura delle tratte è semplicissima perché leggi tratte andrà semplicemente a creare una lista di liste ho tre elementi non sto a fare un dizionario con tutti gli appcini i nomi di campi quindi with open di nome file in lettura encoding uguale tutta roba qua non per scatola as f dunque devo costruire una cosa che chiama tratte che quindi sarà una lista per ogni riga del file aggiungo un elemento alla lista ma è semplicissimo avrò for riga in fine f campi uguale riga punto r strip di barra n punto split su punte virgola anche qua punte virgola vero? e quindi alle tratte aggiungerò ad ogni volta ogni riga aggiungo una piccola lista di tre elementi che sono campi di zero cioè il casello d'ingresso campi di uno cioè il casello d'uscita e float di campi di due lo converto in float subito che è il pedaggio se ho dei dati float e li devo convertire facciamolo subito appena li leggiamo non portiamoci dietro delle stringhe che non tengono dentro dei float o degli int perché sennò poi dovremmo convertirle cento volte più avanti quindi questa variabile tratte se tutto va bene guardiamo come è fatta il modo più semplice di guardare come è fatta è avvio il debug vi la faccio leggere così da un lato controllo se la procedura funziona e vedo come è fatta tratte è una bella lista con queste cose dentro queste sono tre righe difficile sbagliarle a questo punto il cuore è calcolo a pedaggio quindi calcolo a pedaggio riceve una stringa che è il caso d'ingresso una stringa che è il caso d'uscita e tratte che è questa lista che abbiamo appena letto allora cosa può fare? cosa possiamo fare? possiamo prima di tutto calcolare l'indice della tratta che ha il casello d'ingresso uguale al casello dove sono entrato io e poi calcola l'indice della tratta che ha uscita che ha uscita uguale alla mia uscita cioè l'ingresso sarebbe il primo campo della tratta che è uguale al parametro di ingresso no? quindi come possiamo fare? beh possiamo avere la posizione dell'ingresso chiamiamo apposso questo indice ma diamogli un valore a caso meno uno e poi vado a cercare tratta in tratte if tratta di zero uguale ingresso pos pos ingresso uguale ma non mi serve l'indice ok i virgola tratta in e numerate in tratte oh potevo andare a fare un for range ma è uguale ok ho usato il numerate in modo che ciascuna iterazione i mi da l'indice e tratta mi da la tripletta no? la tripletta ingresso uscita pedaggio e a questo punto mi salvo questo valore poi faccio la stessa cosa con uscita quindi mi sento coraggioso faccio copia e incolla ma più che salvo dopo il copia e incolla devo correggere in modo giusto e non dimenticami un pezzo tratta di uno uguale uscita quindi se il nostro se la nostra tratta fosse stata qual'era il primo esempio che abbiamo fatto? ehm Torino-Santià ok questo codice avrebbe calcolato posizione di ingresso uguale 0 perché 0? perché Torino è la prima riga che trova in cui il campo il primo campo sia uguale a Torino e se l'uscita era Santià lui va a cercare il campo in cui la riga no? la posizione della riga in cui il secondo campo è Santià che è questa quindi avremo posizione di ingresso uguale 0 posizione di uscita uguale 4 sì? devo farlo per forze due for diversi? no no potrei lui dice farlo anche in un unico for sì dopo di che però le if e le pause sono ovviamente separate perché sono due variabili distinte quindi risparmiamo una riga però sì io avendo scritto due commenti cerco questo cerco quest'altro mi è venuto da farlo in due pezzi di codice indipendente quindi provo a dire una frase poi mi dite perché è sbagliata quindi a questo punto sono sicuro che posizione di ingresso e posizione di uscita identifichino due caselli che può essere il vero casello di ingresso il vero casello di uscita se sto andando e altrimenti no se sto tornando e ci pensiamo tra un attimo cioè io sto facendo una ricerca sono sicuro di trovare ciò che sto cercando? purtroppo no perché ad esempio nel percorso Milano-Torino Milano come casello di partenza non c'è mai e Torino come casello d'arrivo non c'è mai per come sono presentati i dati se vado a cercare Milano nella prima colonna non lo trovo se vado a cercare Torino nella seconda colonna non lo trovo quindi può darsi che queste ricerche falliscano io per quello ho detto senti inizializziamola a un valore riconoscibile se alla fine di questa ricerca quel valore apposso vale meno uno vuol dire che non l'ho trovato e se non l'ho trovato nulla di grave vorrà dire che il percorso va letto al contrario quindi il percorso è giusto quando se diciamo così il percorso era di andata qual è la condizione che dice che il percorso era di andata uno che ho trovato entrambe le posizioni quindi non sto partendo da Milano e non sto arrivando a Torino che vuol dire che la posizione di ingresso non è meno uno e la posizione di uscita non è meno uno e la posizione di uscita è dopo la posizione di ingresso pos out è maggiore o uguale a pos in allora in questo caso sto effettivamente in un percorso di andata ma a questo punto è facile devo fare la somma degli elementi e i pedaggi delle delle righe comprese tra posiglie e pos out cicletto for e su una quota altrimenti è un viaggio di ritorno rifai tutto da capo cioè rifai quelle due ricerche ma al contrario scambiando ingresso con uscita allora cominciamo a fare cosa succede nel caso normale devo calcolare il pedaggio totale quindi il pedaggio è uguale a zero e poi sommiamo for i in range pos in pos out più uno devo prendere tutte le righe tra la zero e la quattro nel nostro esempio Torino-Santià tra la zero e la quattro ovviamente il range sarà 4 più 1 come valore d'arrivo perché lo voglio comprensivo il valore d'arrivo il pedaggio uguale pedaggio più cosa abbiamo? tratta di i di 2 alla colonna 2 c'era il prezzo e quando ho finito questo for ho finito posso ritornare i due valori che mi venivano richiesti che è il pedaggio e il numero di tratte e il numero di tratte non è altro che pos out meno pos in più 1 un po' e il numero di tratte sì grazie grazie l'elenco l'elenco perché il tratta purtroppo è rimasta una variabile che doveva morire dentro il foro mi serve solamente per iterare il foro e questo mi risolve metà dei problemi l'altra metà dei problemi dentro questo else come c'è scritto rifaccio tutto da capo dimmi devo ricalcolare tutto sì se tu vuoi calcolare prima tutti i casi possibili sì ho capito lui sta dicendo questo blocco qua io mi sono detto correttamente lo devo fare in entrambi i casi perché lui dice allora se io lo mettessi a fattore comune sotto una volta sola evito di scriverlo due volte questo vuol dire che non va messo dentro questo if e l'if deve avere la condizione inversa che mi dice se devo calcolare il contrario sì ci sta posso invertire la condizione questo qua va a fine sotto e non lo metto più nell'ers lo metto in generale anziché se no dovrò fare copia e incolla che non è bello sarebbe sicuramente più semplice se invece qua cosa devo fare nell'altro caso devo rifare tutto l'abbiamo detto da capo ma al contrario quindi tutto da capo qui siamo molto attenti dobbiamo rifare il calcolo della posizione di ingresso quindi dobbiamo indentarla bene la roba perché devo essere scusate sotto l'else qua dove devo controllare l'ingresso non più contratto di 0 questa volta ma contratta di 1 e poi cercare la posizione di uscita indentiamolo bene controllandola contratta di 0 quindi vado a vedere se l'ingresso è nella seconda colonna e l'uscita è nella prima colonna a questo punto sono sicuro che ingresso uscita abbiano senso ma hanno senso al contrario nel senso che sono sicuro di trovarli se i file sono corretti se non ci sono dati sbagliati nel file ovviamente e sono sicuro che l'uscita avrà un indice minore o uguale a quello dell'ingresso per forza quindi rifaccio questo calcolo qui del pedaggio e delle tratte però ricordandomi che l'ingresso e l'uscita sono al contrario quindi devo partire dall'out e arrivare all'in perché altrimenti ho dei valori negativi e anche qua avrò in meno out giusto perché io avrò una posizione di ingresso che è magari la 8 e la posizione di uscita che è la 4 allora devo contare la riga 4 5 6 7 va bene allora posso farlo facendo 4 5 6 7 cioè calcolo dall'uscita all'ingresso tanto le tratte quelle sono oppure potrei fare dall'ingresso all'uscita ma con step meno 1 però allora devo cambiare il range e fare in virgola out meno 1 virgola step meno 1 o se non li scambio di post come ho fatto io qua mi sembra più semplice scambio out con in perché sono sicuro che in sia maggiore o uguale di out allora sta cosa qui è abbastanza complicata che mi viene voglia di testarla a parte quindi io qua nel mio main dopo che ho letto passaggi e tratte le abbiamo già verificate che funzionano prima di fare tutto questo ciclo che fa tutti i calcoli fatemi fare due o tre prove a mano se non vi spiace calcoliamo calcola tratte calcola pedaggio scusatemi Torino Milano passandoli tratte e stampiamo cosa riesce poi metto qua di brutto return per uscire dal main e non fare il pezzo di programma che sta sotto perché io prima di andare io ho due parti di codice entrambe abbastanza complicate che non ho ancora testato la funzione calcola e il resto del main se le provo tutte insieme e non funziona non so dove cercare l'errore allora cominciamo a testarlo separatamente facciamo finta che il main non l'abbiamo ancora scritto calcola pedaggio Torino Milano cosa mi dici? mi dici 13 e 4 19,4 14 allora le 14 sì perché sono 14 righe in questo file 1 e 30 tra 2 e 30 3 e 40 4 e 50 5 e 80 6 e 10 6 e 80 7 e 6 70 8 e 70 9 e 70 12 e 90 13 9 più 7 è 16 9 e 60 14 a me 20 e 50 ma mi sa che ho sbagliato io ma poi c'è ancora 2 e 90 sotto allora sì era 4 di 50 più 2 fa 16 e 90 fa sentite vi viene viene 19,4 facendo la somma di tutti questi numeri dice ma siamo pirla a fare questo come primo esempio facciamo uno più facile facciamo Volpiano o Santià dov'è dov'è il mio main con l'h 5,5,3 questo è Volpiano Santià allora Volpiano entro Santià esco sono 3 2,4,5 e 10 30 si fa 5,50 quindi anche l'altro viene e Santià Volpiano Santià Volpiano dovrebbe venire uguale allora proviamo anche Santià Volpiano no viene uguale e Milano Torino Milano Torino è quello particolare per cui nella prima parte non troverebbe gli indici mi dà lo stesso valore di Torino Milano chi è giusto no dov'è si qua sotto qui questo scroll bar e proviamo ancora delle tratte più brevi tipo entro a Balocco esco a Greggio o viceversa per vedere il caso particolare di un casello solo sto facendo i casi particolari l'intera tutto 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 al contrario un pezzo un pezzo al contrario uno in casello un casello al contrario credo che siano tutti i casi che possono capitare quindi abbiamo detto che erano cosa entro a Balocco esco a Greggio e viceversa 0,9 una tratta 0,90 una tratta ok allora con questo direi che sono abbastanza convinto che la mia funzione calcolo a pedaggio funziona se adesso faccio andare avanti il resto del main e mi tira fuori schifezze so che sarà colpa del main e non è colpa della funzione quindi commentiamo questo togliamo sto return e vediamo cosa salta fuori allora FI 7,8 5,1 adesso mi devo confrontare con l'esempio FI 7,8 5,1 7,8 5,1 BY 24,6 22 figo e X 9,492 TR 20,4 15,2 T20,4 15,2 a parte l'estetica i decimali gli spazi eccetera è perfetto quindi siamo stati fortunati siamo stati bravi soprattutto siamo stati bravi perché alla fine il main che è la cosa più complicata è semplice come codice alla fine il codice più semplice è finito nel main perché quello più complicato l'abbiamo messo nelle funzioni ci abbiamo ragionato a parte le abbiamo testate a parte rimane da fare l'ultimo pezzo a questo punto in scioltezza noi stiamo stampando pedaggio tot dobbiamo salvarci che cos'è chi è che ha il pedaggio tot più grande come possiamo fare qui abbiamo vabbè potremmo salvarci una bella lista di tuple targa pedaggio targa pedaggio targa pedaggio e poi facciamo il massimo di sta roba lì no? quindi mentre calcoliamo tutto il resto facciamo pedaggi una lista vuota e poi ogni volta che stampo qualcosa aggiungo pedaggi una tupla che abbia dentro la targa il pedaggio totale una tupla una lista è quello che preferite così una bella tabellina targa pedaggio targa pedaggio targa pedaggio e calcolo il max di questa cosa qua l'indice a cui si trova il valore massimo dopo che ho stampato questo ho questa struttura dati pedaggi e devo calcolare pedaggio max vogliamo lo calcoliamo a mano se no possiamo fare un giro con l'item getter per ordinare sulla base della seconda colonna ma qua basta un massimo uguale 0 mettiamo 0.0 perché ci ricordiamo che il pedaggio è un reale for i in pedaggi e poi metto targa max uguale che so stringa vuota che è quello che mi serve la targa max if pedaggi non range length pedaggi iter sugli indici if pedaggi di di 1 0 la targa 1 è il pedaggio che è già la somma delle tratte quello che abbiamo appena stampato maggiore di pedaggio max pedaggio max uguale quello e targa max mi salvo la targa a cui corrisponde questo massimo che è pedaggi di di 0 alla fine stamperò la targa max ma print targa max che è questa qua dimmi sì quindi lui dice per trovare il massimo posso ordinare questa lista in ordine decrescente di decrescente di pedaggio e poi prendere il primo elemento sì come idea è vero che il sort è un pochino meno efficiente di una ricerca lineare ma va benissimo non interessa questo dettaglio lui poi ha suggerito per facilitare questo sort metto prima il pedaggio poi la targa sì si può fare oppure quando fai il sort metti come chiave item getter di 1 e così ordina sulla seconda colonna anziché sulla prima sono tutte soluzioni altrettanto valide sono sempre tre righe di codice alla fine come lo vedi basta appunto ricordarci che sono dati che abbiamo già li abbiamo appena stampati quindi man mano che li stampiamo li calcoliamo me li salvo e poi dopo li vado a girare per trovare il massimo ok allora questo lo possiamo possiamo dichiarare vittorie su questo esercizio prenditi un intervallo e poi pensare a qual esercizio affrontare nella seconda ora magari riusciamo già a deciderlo adesso così cominciate a pensarci mentre smangiocchiate la merendina ci pensate nel frattempo sono arrivati i suggerimenti questa è una cosa puntuale per acclamazione ce n'è uno che volete fare se non decido io l'intervallo il viaggio della slitta era anche un appello qua questo volete questo cominciamo a fare questo visto che è l'unico che sono venuto a sentire poi gli altri me li scrivete li facciamo anche la settimana prossima dopo intervallo facciamo questo grazie a tutti grazie a tutti